In questo giorno siete chiamati ad accogliere questa parola non più come angelo e Chiara, ma come una carne sola. Non mi diventare chi ho già stato, non mi diventare sempre, non mi diventare sempre, non mi diventare sempre. Il Signore faccia risplendere in voi la sua luce, perché siate sale, terra del mondo. Questa luce risplenda davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone. E ringrazino, ci rendano gloria, ringraziamento, lode a chi? A colui che vi ha messi insieme, vi ha pensati, vi ha fatti, vi ha pensati fin da sempre. Cioè il Padre vostro che è nei Cieli. Chiara, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angelo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti.